Una situazione ingestibile per stessa missione dei titolari. Dopo alcune discoteche della riviera, questa volta da essere finiti oggetto di controlli anti-assembramento sono i ciringhito di Rimini. Il copione è lo stesso, personale in regola con l'enorme anticontagio, DJ che chiedono ai giovani di distanziarsi e di indossare la mascherina, ma poco si può contro la massa che vuole divertirsi. E così domenica sera la musica è stata spenta in tre bar sulla riva in corrispondenza dei bagni 42, 44 e 46 dopo le ispezioni della polizia che ha riscontrato troppa gente attorno ai locali riminesi. Sorti pochi anni fa sulle spiagge della Romagna, i ciringhito sono presto divenuti di tendenza con i loro drink bevuti a piedi nudi sulla sabbia dal tramonto a notte. Un aperitivo amaro, quello di domenica scorsa, per i tre locali in questione, dove le casse sono state spente attorno alle 21 tra le proteste di molti eventori che non accettavano la brusca interruzione della serata. Nessuna sanzione però è stata elevata ai gestori, l'attenzione è adesso rivolta al weekend di Ferragosto. Si riuscirà a far rispettare le regole? Serve un patto per il divertimento, un patto tra gestori e frequentatori dei locali da ballo, ha detto la rappresentante delle discoteche Gianni Indino, presidente del Silbe Emilia Romagna. Piccoli sacrifici da parte di tutti per poter continuare a divertirci in piena sicurezza è quello che chiede. Appelli per ora caduti nel vuoto, visto che dai locali in collina a quelli sulla battigia, la difficoltà della movida post-covid rimane sempre quella, la difficile accettazione delle regole da parte dei giovani. Intanto ai locali si chiede di fare ancora più attenzione nel rispettare le regole.